le suggestioni domanda a che cosa dobbiamo stare attenti per non incorrere in gravi delusioni visto che siamo continuamente bombardati da suggestioni e da pubblicità devastanti guida dovete stare attenti al vostro intimo e non al vostro esterno allora gli altri potranno influire ben poco su di voi con altri intendiamo non solo le persone che vi sono vicine ma anche le suggestioni che vi provengono dall'esterno ed ecco che se voi riuscite a conoscere voi stessi superate le pulsioni interiori che possono venirvi dalla pubblicità o dai personaggi mediatici e tutte queste mode e suggestioni non avranno nessun effetto su di voi